La valvola endobronchiale Zephyr è un trattamento per l'enfisema grave, quando la gestione medica da sola non è sufficiente. La valvola endobronchiale Zephyr è un comprovato trattamento mini-invasivo, studiato per migliorare la respirazione, l'attività e la qualità della vita di pazienti con enfisema grave a cui manca il respiro nonostante la terapia medica ottimale. La procedura della valvola Zephyr viene effettuata in anestesia generale o sedazione cosciente, durante la quale si utilizzano un broncoscopio standard e un catetere di posizionamento flessibile per guidare le valvole nel lobo target e nelle vie aeree desiderate. Vengono impiantate più valvole per garantire l'occlusione di tutte le vie aeree che portano al lobo target del polmone. Le valvole possono essere posizionate a livello lobare, segmentale o subsegmentale in base all'anatomia delle vie aeree. Le valvole funzionano impedendo l'ingresso di aria nel lobo trattato durante l'inspirazione e consentono la fuoriuscita dell'aria intrappolata nel lobo durante l'espirazione, riducendo in tal modo il volume del lobo trattato. Se necessario, le valvole possono essere rimosse o sostituite. Dopo il trattamento, i lobi rimanenti possono espandersi maggiormente e la pressione sul diaframma diminuisce, migliorando la meccanica respiratoria e la funzione polmonare generale. I pazienti che rispondono al trattamento con la valvola Zetir spesso riscontrano un miglioramento significativo entro 45 giorni. Grazie per la visione!